Cagliari, la giunta regionale ha stanziato 4,7 milioni di euro per la riqualificazione e sopraelevazione dei locali ATS in via Manzoni ad Alghero. Ne dà notizia il presidente del consiglio regionale Michele Paes. Al termine dei lavori, la cui durata è stimata in 38 mesi, che si tenterà di ridurre sensibilmente, i locali potranno ospitare le sedi dei servizi sanitari territoriali che oggi, a causa di una inesistente programmazione del passato, sono costretti ad operare in spazi non idonei e distribuiti in maniera incoerente in vari locali sparsi nella città, per lo più in locazione, dichiara il presidente Paes. Inoltre, è indispensabile trasferire il CERD da Via degli Orti, dove assiede il poliambulatorio in cui sono ubicate le attività sanitarie e amministrative. Grazie a questa razionalizzazione dei servizi e degli spazi, sarà possibile ottenere ingenti risparmi costituiti da onerosi canoni passivi di locazione, e, cosa più importante, dare una sistemazione idonea e stabile a servizi sanitari di particolare importanza nel tempo colposamente trascurata, che aveva portato anche a pericolose e vietate commistioni tra servizi ospedalieri e territoriali, continua Paes, che conclude ingenti risorse che vanno ad aggiungersi ai 7,5 milioni destinati all'ospedale di Alghero, che confermano la grande attenzione rivolta al nord-ovest da parte dell'assessore alla sanità Mario Niedu e della giunta guidata da Cristian Solinas.